Sono lieto di intervenire a questo evento di presentazione dell'edizione 2021 del rapporto Export di Sace. Saluto e ringrazio il Ministro Daniele Franco, il Presidente di Sace Rodolfo Errore, l'amministratore delegato, il Dottor Pierfrancesco Latini e i relatori che mi hanno preceduto. Il titolo che Sace ha scelto per l'edizione di quest'anno, Ritorno al futuro, anatomia di una ripresa post-pandemica, riflette la situazione di eterogeneità che caratterizza la ripresa degli scambi globali nel contesto post-pandemico. Il rapporto fa stato di come, grazie a un veloce rimbalzo dell'economia globale, in particolare nel commercio di beni, si sia tornati su binari di ripresa dopo il periodo più buio della pandemia. Il ritorno dei livelli di crescita ante crisi, tuttavia, non avverrà in maniera uniforme per tutti i Paesi. Diverse economie dovranno attendere sino al 2022 per un pieno recupero del PIL. Questa eterogeneità è dovuta a una serie di fattori, tra cui la capacità di gestione della pandemia e, non da ultimo, l'efficacia delle politiche adottate per accompagnare la ripresa dell'export nei vari Paesi. Il patto per l'export, che è stato fortemente voluto dalla Farnesina, per la cui realizzazione il Governo ha stanziato oltre 5,4 miliardi di euro, rappresenta un esempio di inclusività ed efficacia. Digitalizzazione, innovazione e spirito partecipativo sono stati i cardini che ci hanno guidato nella sua ideazione e attuazione come frutto di un dialogo approfondito con oltre 140 associazioni di categoria di tutti i settori produttivi, i ministeri coinvolti per competenze, le Regioni e le Camere di Commercio. A oltre un anno dal suo varo, è possibile oggi cominciare a tratteggiare un bilancio di questa nuova strategia, bilancio che appare largamente positivo. Secondo l'Istat, l'export italiano dei primi sei mesi del 2021 ha raggiunto un volume di esportazioni pari a 250 miliardi di euro. Non solo abbiamo registrato una crescita del 24% rispetto al 2020, ma abbiamo anche superato i 240 miliardi di export del primo semestre del 2019, l'anno d'oro dell'esportazione italiana. Il rapporto SACE, nel delineare lo scenario di ripresa ritenuto più realistico, il cosiddetto scenario base, prevede che nel 2021 le esportazioni italiane di beni cresceranno in valore dell'11,3%, così da sovracompensare le perdite del 2020 e superare, secondo il modello, le performance dei nostri partner europei. Questo dovrebbe consentirci di mantenere una dinamica accelerata anche nel triennio successivo. Questi dati e proiezioni sono il segno più tangibile della bontà dello sforzo di sistema intrapreso con il patto per l'export. SACE, come parte del polo dell'export che raggruppa anche ICE, Agenzie e Simest, è parte integrante di questo slancio sin dal principio, avendo sottoscritto il patto e ampliato, a partire dal decreto liquidità dello scorso anno, il proprio perimetro di azione a favore dei nostri operatori, in linea con i modelli assicurativi dei principali paesi europei. Insieme a SACE abbiamo ideato nuovi strumenti di accompagnamento delle imprese nei mercati esteri. Vorrei menzionare tra questi export.gov.it, un portale interattivo che offre in un unico spazio virtuale gli incentivi per l'export messi a disposizione da MAECI, ICE, Simest, SACE, Regioni e Camere di Commercio e le cui nuove funzionalità saranno oggetto, a breve, di un nuovo roadshow regionale. Il nostro auspicio è che nel futuro SACE sia in grado di offrire i propri prodotti e servizi a una platea sempre maggiore di piccole e medie imprese e ad ampliare gradualmente la sua operatività settoriale. L'obiettivo della farnesina del governo italiano nel suo complesso resta di rendere permanenti e strutturali le politiche adottate in questa congiuntura per rafforzare il posizionamento della nostra imprenditoria sui mercati esteri. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla cui strutturazione la farnesina ha partecipato attivamente, rappresenta in quest'ottica una leva importante grazie agli 1,2 miliardi di euro, di cui 400 milioni a fondo perduto, destinati al rifinanziamento del Fondo 39481 per progetti che coniughino sostegno all'export delle aziende italiane e obiettivi del Next Generation EU. Il PNRR è parte di un'ambiziosa strategia per l'ammodernamento del Paese alla cui, messe in opera, stiamo contribuendo attivamente nell'ottica di rendere l'Italia un vero e proprio hub all'avanguardia per il commercio internazionale e gli investimenti. Il rapporto ben mette in luce il potenziale impatto economico del PNRR sul medio periodo ed evidenzia come le riforme strutturali previste possano contribuire anche a rafforzare la competitività delle imprese italiane sui mercati esteri. Riuscire a cogliere a pieno l'impulso impresso alla crescita del PNRR si tradurrebbe nello scenario più favorevole prospettato dal rapporto in un incremento dell'export di beni che nel 2025 risulterebbe fino al 3,5% più alto rispetto al già positivo scenario base. Vogliamo continuare a lavorare lungo questa traiettoria consapevoli del ruolo trainante dell'export per la ripresa dell'economia nazionale. L'auspicio è chiudere il 2021 con un risultato dell'export che superi quello del 2019. Per questo ringrazio Sace per il sostegno che quotidianamente assicura le nostre imprese e per aver offerto anche quest'anno con la quindicesima edizione del rapporto export uno strumento di orientamento indispensabile per i nostri operatori economici. Grazie e buon lavoro!